che ieri pomeriggio c'è stata la conferenza stampa congiunta tra la Procura federale e il centro di sicurezza dove hanno confermato l'allerta 4 che è il massimo livello di allerta dove ipotizzano un attentato nell'immediato mettiamola in questi termini. Il livello 4 è stato confermato per tutta la settimana in aggiunta hanno confermato anche la chiusura delle metro per oggi e probabilmente riapriranno un po' alla volta a partire da domani e la chiusura delle scuole che c'è stata in questi due giorni è confermata per il momento per oggi probabilmente per domani ci sarà la riapertura anche degli istituti scolastici. Diciamo che abbiamo vissuto la situazione più grave e più tesa domenica sera quando ci sono stati questi blitz su tutta la città per cui lì c'era il coprifuoco, si viveva, si sentiva, si avvertiva. La stessa cosa non si vive in questi ultimi giorni però è chiaro che siamo invitati a restare ciascuno a casa proprio per evitare di trovarci magari in situazioni piuttosto complesse e difficili da gestire. Io devo dire così una nota, devo aggiungere una nota. Oggi sono uscita dopo giorni di reclusione, se così si può dire, di reclusione in casa sempre nel rispetto di quello che era l'invito delle autorità, sono uscita questa mattina per recarmi al lavoro sempre con uno stato di apprezzione e di tensione che tutti possono immaginare. Molte strade sono completamente spopolate, altre invece si congestionano proprio perché il traffico viene canalizzato lì e di conseguenza cercavo di filmare questi momenti. Sono stata avvicinata da un addetto alla sicurezza di uno di questi palazzi, non un militare e non un poliziotto il quale mi ha invitato a spegnere immediatamente qualunque tipo di apparato proprio perché in questo momento la polizia si vede che filmi anche solo dei palazzi dell'istituzione europea o comunque dei palazzi circostanti, si insospettisce, viene e requisisce il tuo materiale e difficilmente porti a termine quello che è il tuo lavoro. In Belgio ci sono, come te, tanti nostri connazionali e soprattutto tanti corregionali insomma avrei avuto modo sicuramente di parlare con qualcuno di loro che dicono che come la stanno vivendo questa situazione, a parte quello che ci hai raccontato tu. Da parte loro si vive la stessa apprezzione, si è costantemente in contatto, ci si scambia queste preoccupazioni e un po' di conforto, se così vogliamo dire, però c'è sicuramente uno scambio continuo, un canale continuo di aggiornamento, questo sì. In Belgio è abbastanza insolito vivere queste situazioni, insomma un paese che difficilmente va agli onori delle cronache, diciamo. Esatto, non avevo, non ho un'esperienza pregressa qui, diciamo che sono qui da qualche mese per cui quello che riesce a emergere dal racconto delle persone che sono qui da molti anni è proprio questo che questa è una situazione di vera emergenza, non c'è mai stata un'allerta così forte, non c'è mai stato un pericolo così palpabile da vicino.